Chievo al momento fuori dalla B, Carpi, Novara, Paganese e San Benedettese, temporaneamente escluse dalla C, alla pari della Casertana. Questo l'esito dell'esame dei ricorsi presentati in Covisoc dalle squadre che avevano fatto registrare irregolarità o documentazione insufficiente al momento dell'iscrizione ai campionati. Status certificato dal Consiglio federale del 15 luglio che potrebbe coincidere con un vero e proprio terremoto nella composizione dei campionati. Spera il Cosenza che vede la bandiera scacchi della B. Tengono il fiato sospeso una dozzina di club in C, dove c'è anche da registrare la rinuncia del Gozzano neopromosso. Le sei società potranno ricorrere ancora al Coni e la parola fine si avrà solo il 27. Nel frattempo entro il 19 andranno fatte le domande di ripescaggio. Per la B resta in corsa appunto il Cosenza, per la C ci sarà una squadra di D e poi una retrocessa in alternanza. La LND ha presentato le sue graduatorie, detto che l'FC Messina, ripianando il bilancio, dovrebbe rimpiazzare il Gozzano. Vista la rinuncia della Ianese, prima sostituta nell'ordine, sarebbero pronti a rispettare tutti i canoni richiesti Latina, Fidelisandria, Clodiense e Bra. Le ultime due, se i loro stadi saranno ok, Rimini e Siena. In C sono intenzionati a chiedere la riammissione Lucchese, Pistogliese, Bicei e Arezzo.